Per cui andremo avanti, torneremo, ne sono sicuro, quando anche le condizioni generali ce lo permetteranno, torneremo sui massimi scenari della pallavolo italiana. Peraltro oggi ho avuto anche l'augurio del Presidente dell'Amministratore Righi, il quale mi aspetti che ci aspetta in Serie A, quindi siamo ben voluti, abbiamo fatto bene anche nella Lega Volley. Non vi nego che se la condizione del palazzetto dovesse perdurare in questo senso, e non vi nego che abbiamo anche un'idea, ora non vorrei anticiparlo troppo, ma proprio di costruire una casa, un palazzetto privato a Corriere. Potrebbe essere anche una risposta della società, della società civile, ci stiamo pensando, è probabilmente la strada che percorreremo. Per cui niente, saluto tutti e ci vedremo, spero a breve, per ulteriori aggiornamenti su tutte le nostre attività. Grazie. 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 Grazie.